E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Serate complicate queste, aspettate che ho qua dietro il grafico della Bitcoin Dominance, riportiamo il grafico di Bitcoin, serate di volatilità, giornate di volatilità. Oh, lo dicevamo, tutta sta compressione non può durare, che noia, che noia, che noia, ce la siamo cercata, Bitcoin è una stable coin, bla 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 bla, ed ecco cosa succede, puntuale, puntuale come la morte, ragazzi, quando cominciano i meme sulla stabilità di Bitcoin, dampa, è matematico, è matematico. E quindi la domanda, la domandotta insomma da un milione di satoshi diventa. E ora, che succede? Anzi, ci sono più domandozze, vedo che in tanti si sono chiesti come mai è successo questo. E quindi cercare, no, spasmodicamente un anesso di causalità con una notizia che ha scatenato il dump, ma vi dico la verità, non sempre ci sono notizie che scatenano i movimenti, spesso sono semplicemente dei grossi, delle grosse svendite che innescano liquidazioni. Oggi ci sono state delle liquidazioni pazzesche, non si vedevano liquidazioni tali di long, ovviamente, dalla caduta di FTX, giusto per farvi capire l'entità, no, del panico, del sangue versato sulle strade. Ecco, questa è stata la situazione che ha esacerbato poi questo dump. Dump che è stato concentrato in pochissimo tempo, guardate le candele da 5 minuti, per farvi capire, no, la concentrazione di questo dump. Cioè, guardate, sicuramente ci sono state più ondate, ma il grosso è in questa singola, guardate una candela da 5 minuti, che è ampia, adesso vi dico anche esattamente quanto, quanto è ampia questa candela, l'8,72%, 5 minuti. E probabilmente se andiamo a spacchettare su un time frame minore, proviamo a vedere un minuto, per curiosità, andiamo a vedere, adesso mi esplode tutto perché ci sono troppi dati, ma, 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 guardate che roba, cioè, si tratta di 3 minuti probabilmente, cosa sono? 3 candele? Abbiate pazienza, ma mentre stream non mi, cioè, mi è veramente affaticato, 1, 2, 3, sì, no, 4 candele, insomma, torniamo pure sui 5 minuti. In 5 minuti, 8,72% di dump, solo nelle cripto si vedono queste cose, no? E, insomma, non ci si lamenterà sicuramente più della volatilità. Ma, infatti, ripeto, in tanti si chiedevano, ma che è successo? Cioè, come mai tutto questo dump iperconcentrato? Beh, la risposta principale sta nelle liquidazioni, adesso andiamo a vedere bene i dati. E poi, le altre domande che arrivano ora sono, ma, quindi, adesso, come stiamo messi? Quali sono gli scenari possibili? I nuovi livelli di supporto? Insomma, cosa potrebbe succedere ora, in luce di questo dump che cambia radicalmente la struttura di prezzo? Ecco, questa sì, è una domanda che vale molto più la pena porsi, ci poniamo e ci andiamo a riflettere. Quindi, per cominciare, direi, visto il dump, ecco, vi faccio la solita domanda di rito, visto che ci tengo anche a leggere le vostre opinioni nei commenti e i vostri punti di vista, cosa pensate, come vedete la situazione adesso nell'ottica di questo dump? Quindi, per i prossimi mesi, verso l'alving, insomma, cosa vi aspettate? La vedete diversamente da come la vedevate prima, oppure no? E come vi state comportando, anche nell'ottica di, appunto, questo ribasso? Fatemelo sapere nei commenti e qua in chat, che tra poco vi leggo, e voi su YouTube, che ci seguite indifferito, ovviamente vi risponderò in seguito nei commenti. Come mai vi sto chiedendo questo? Beh, perché questi movimenti sottolineano l'importanza dell'avere una strategia e del non essere colti impreparati. Prima, nella chat pre-live, nel fuorionda, si discuteva molto del comportamento da mantenere, cioè le classiche domande, ma il piano d'accumulo è sempre una buona strategia? Insomma, tutti si mettono in dubbio, no? Si chiedono, giustamente. E la risposta non è universale, perché qualcuno magari, lo dicevo poco fa, qualcuno magari è trader e allora giustamente non sta a fare piani d'accumulo, ma opera da trader, da speculatore. Chi invece vede in Bitcoin del valore crescente nel lungo termine e lo vede come parte del proprio portafoglio, giustamente ragionerà in quell'ottica. Non ha senso, se io non sono un trader e non so, non ho voglia, non ho tempo, non ho testa di mettermi a fare trading, ma perché devo mettermi lì a impazzire dietro ai grafici, trovare le posizioni short, long, gestire tutto, che è difficile, non è per tu, non si può improvvisarsi trader, è meglio evitare di farlo se non si sa cosa si sta facendo. E quindi ci sono ovviamente operatività diverse, non c'è solo il piano d'accumulo, ci sono varie tipologie di piano d'accumulo, ci abbiamo fatto tanti video, no? Su diverse, un diverso spettro appunto di strategie che si può adottare, ognuna delle quali ha dei pro e dei contro. Non esiste la risposta facile e per tutti universale, cioè per qualcuno è meglio il piano d'accumulo, per qualcun altro è meglio magari fare trading, per qualcun altro è meglio fare degli acquisti in un certo modo, dipende da tantissime cose. E un'altra domanda, alla quale voglio proprio rispondere prima di iniziare le analisi, che mi è piaciuta e che ripongo anche a voi, tra l'altro, è cosa vuol dire, qualcuno mi ha chiesto, Luca, cosa vuol dire per te lungo termine, no? Perché io dicevo, personalmente, lo conoscete il mio punto di vista, per me Bitcoin è un asset che ho deciso, andandone a sopperire ovviamente i rischi, andandomi ad addossare soprattutto i rischi che ne conseguono, di includere nel mio portafoglio con un certo peso, ok? L'allocazione che ho definito io, che va bene per me, per la mia tolleranza al rischio e situazione finanziaria. E l'ottica ovviamente è di lungo termine. Qualcuno mi ha chiesto, cosa vuol dire per te lungo termine? Ecco, la mia risposta è la seguente. Lungo termine per me vuol dire non avere un orizzonte temporale, cioè non penso a quando farò cash out, cioè per me non esiste l'ottica di cash out, ma è proprio un'idea del dire, bene, io adesso ho 10 di liquidità, no? 10 x euro, x dollari, come volete voi. Non li voglio tenere liquidi, perché altrimenti si svalutano, c'è l'inflazione che me li erode giorno dopo giorno. E quindi cosa faccio? Li parcheggio in degli asset che per me sono i migliori in questa situazione storica. Quali possono essere questi asset? Azionario, oro, bitcoin, ethereum, altre valute? Sta ovviamente alle riflessioni, analisi e punti di vista di ognuno deciderlo. Per me la risposta comprende anche bitcoin, lo sapete, no? Ve l'ho raccontata in varie salse, la mia asset allocation, che ovviamente non è full crypto, io non consiglierei mai e poi mai a nessuno di fare un asset allocation full crypto, perché è troppo rischiosa, lo sapete cosa ne penso, nonostante io sia di parte e a favore del... cioè io penso, io credo nel valore futuro di bitcoin, e quindi direte ma sei pazzo a dire una roba del genere? No, perché comunque è anche un tema di rischio, no? Dal mio punto di vista. Ma in un'ottica di portafoglio diversificato, secondo me, per me, bitcoin, ovviamente, il suo posto ce l'ha con quella specifica asset allocation. Quindi, ripeto, non penso a nel 2035 venderò e quindi penso che varrà XYZ, no? Mese dopo mese, settimana dopo settimana, si segue un po' il mercato, a me piace comunque seguire i mercati, e vedo e valuto la mia asset allocation e le mie tesi di investimento in base a quello che per me in quello specifico momento storico rappresenta l'asset di maggior valore potenziale futuro. Ecco, questo è un po' il mio ragionamento di lungo, del lungo termine. La risposta alla domanda, cosa vuol dire lungo termine? Ve lo chiedo anche a voi, per te cosa vuol dire lungo termine? Dimmelo, scrivilo in chat, nei commenti, tra poco vi leggo. Ora, non voglio farvi aspettare troppo, non voglio fare il prezioso, quindi passiamo dritti come dei fusi alle analisi. Allora, analisi price action per iniziare. Oggi ne abbiamo di cose da dirci. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti, se vi ricordate, a questa zona. Ovvero, stavamo gravitando nell'intorno dei 29200, precedente high settimanale, avendo formato un range, se vi ricordate, con la candela di arresto, che era la candela settimanale, aspettate che ve la vado a recuperare, eccola qua, 1 e 1 a 2, in realtà, quindi era sopra, c'era questo livello, sotto, scusate, quest'altro, che andavano appunto a definire una sorta di range dentro al quale si era in arresto e fuori uscendo da lì, poteva rinnescarsi la volatilità. Sotto a questo range c'era l'area di domanda, che avevamo proprio evidenziato tra l'ai settimanale che si trova ancora sotto e il bottom proprio di questo range. Allora, la prima ondata, andiamo a esaminarle proprio al microscopio, sul grafico di un'ora, la prima ondata, come vedete, ha attaccato l'area di domanda, l'area di domanda ha reagito per un po', ma per poco, perché subito dopo c'è stata la seconda ondata, vedete, con volumi che sono stati crescenti, fin tanto che i volumi sono crescenti, qui parlo dell'intraday, l'ondata continua, cioè quando poi i volumi decrescono, l'ondata si contrae e termina. Questa era ancora la fase di accelerazione, di valanga, no? Immaginatevi una valanga che si sta formando, che prende sempre più seller, stop loss, liquidazioni, tutti insieme, uno dopo l'altro, appassionatamente. Vedete, secondo impulso dell'ondata, cosa ha fatto? Ha attraversato l'area di domanda, e in seguito è stata retestata anche dal basso, proprio sull'intraday. Da lì poi è originato il terzo e ultimo impulso, sono impulsi estremamente, sono degli spilli, eh? Guardate, sono candeline veramente circoscritte, in un intervallo di tempo limitatissimo. Abbiamo visto prima la candela di picco, di apice, la candela apicale del dump, 5 minuti, 5 minuti per dampare del 10%. Let that sink in, come qualcuno dice, no? E qui appunto retest e ondata apicale, che è andata a prendere, vedete, ad attraversare completamente quest'area, che era un po' più vuota. Mettiamo pure anche il volume profile. È andata a pescare addirittura liquidità da quest'area qua in basso. Adesso andiamo, scusate, cancello un attimo di sporcizia, per farvi vedere anche l'importanza, togliamo, l'importanza, guardate, di quest'area di supporto principale, da cui siamo andati addirittura ad attingere, cioè è stato veramente un dump, che è stato difficile da arginare, ha travolto tutti, in pochissimo tempo, ha travolto tutti i buyer, li ha esauriti uno dopo l'altro, esausti, fino ad arrivare, è dovuto arrivare all'area di supporto principale, che altro non è che la zona, vedete, di top del costrutto di bottom, quindi il massimo locale della zona di bottom del bear market, cioè, insomma, è l'area forse più forte, più importante dell'intera costruzione dell'ultimo anno, per capire, no, l'importanza strutturale di quest'area. Ci avevamo attinto, vedete, dall'ultimo ritracciamento eravamo ripartiti da lì, e qua è come fosse un BART, no, a tutti gli effetti. Questa è stata, si è rivelata una distribuzione, c'è stato l'impulso ribassista che è tornato ad attingere, appunto, dall'area di supporto principale. Qui si è originato un po' di domanda, ma veramente poca rispetto alla violenza dell'offerta che ha fatto dampare fin lì, basti vedere. Adesso sono curioso di vedere, ecco, la chiusura del settimanale, quindi il primo, le prime conclusioni effettive si potranno trarre nel momento in cui i volumi torneranno a contrarsi. adesso con buona probabilità, guardate, torniamo pure al grafico orario che è molto bello, molto eloquente, vedete, l'ondata è partita, si è probabilmente esaurita e poi c'è stata, c'è la fase di contrazione, quindi adesso magari ci sarà qualche picco, no, secondario, ma non mi aspetto altri picchi di volume del genere, e quindi mi aspetto un po', ecco il maremoto che si arresta un attimo, si placa un attimo, e proprio una volta che si è placato sarà interessante vedere, soprattutto su un time frame come il settimanale, dove andiamo a stabilizzarci, per capire meglio proprio l'entità di domande e offerta alla fine, no, di tutto il movimento. Finché il movimento non è finito è difficile trarre conclusioni, ripeto, adesso sì, possiamo già trarre conclusioni, ma magari potrebbero esserci altre scosse, no, nel prossimo futuro. Più difficile perché l'open interest si è contratto in maniera clamorosa, tra poco andiamo a vedere anche quello, quindi anche quello va a contribuire con una volatilità che adesso è probabile che si contrarrà nei prossimi giorni, fin tanto che non vedremo altre accelerazioni magari di open interest, comunque non è detta l'ultima parola, ecco insomma. Quindi, per tornare dove eravamo prima, domanda che ha reagito leggermente, guardate il rapporto body shadow, ovviamente il body è enormemente più grande della shadow, domanda che ha reagito in maniera molto, molto leggera, soprattutto ieri vedete in parte assorbito, ma oggi c'è stato anche un follow up di offerta per il momento, quindi abbiamo un altro calo leggero del 2%, i livelli chiave da tenere sotto controllo non è solo, non sono solo in quest'area, no, l'area di supporto principale, ma abbiamo anche l'origine dell'ultima leg up, guardate, quest'ultima leg up in particolare, che se la perdiamo e al momento è persa, se adesso vediamo dove chiudiamo, insomma, se non si presenta particolare domanda qui sotto che va a farci rimbalzare, è altamente probabile che ci chiuderemo sotto, ma appunto, se chiudiamo qua sotto, viene assorbita, quindi viene vanificata l'ultima leg up, questo ripeto, diventa un BART, diventa tutto un falso movimento, e la situazione passa in mano all'offerta, perché è l'offerta poi che assume il comando, in particolare fin tanto che non assorbiamo la sua ultima origine del dump adesso, che si trova qua su a 29.400, tac, questo diventa il livello, un livello da recuperare se vogliamo appunto assorbire l'effetto di quest'ultimo movimento, capite perché no? Adesso la palla passa in mano all'offerta, perché l'impulso di svendita è l'ultimo impulso dominante e va assorbito se vogliamo appunto andare a riequilibrare la situazione, questo chiaramente sul breve, perché parliamo di un time frame giornaliero, bisogna sempre inquadrare le analisi nel time frame di riferimento. Un recupero parziale, se così lo vogliamo definire, potrebbe essere riappropriarci di quest'area di domanda, ma fin tanto che non recuperiamo, vedete l'origine del dump, non sa da fa. Infatti, se ci fate caso, a proposito di origini del dump e della loro importanza, adesso l'ho cancellato perché è un valore obsoleto, ma prima, prima di quest'ultimo dump, ci andavamo a rifare, se vi ricordate, se andate a recuperare i vecchi video, gli ultimi video, a questo livello, a 30.080, giù di lì, come livello da recuperare proprio per andare a riprendere in mano di nuovo la situazione sul breve per la domanda contro l'offerta, perché era l'origine dell'ultimo dump, era un dumpino ovviamente, ma poi come vedete tutti i tentativi sono stati vani, infatti qualcuno mi aveva scritto dicendo così, giusto per farmelo sapere, guarda, io a quel retest, secondo retest, questo qui, lo sweep assorbito e tutto, io ho aperto uno short con, mi pare che lo stop loss fosse proprio qua sopra in caso di chiusura di quella, della candela lì sopra, e col senno di poi ti dico bravo, hai fatto solo bene, ma capite, no, che quando si va ad aprire delle posizioni di questo tipo, non è che bisogna avere la certezza che le cose vadano in un certo modo, perché non si può prevedere, ok, sia chi vi dice questo si capiva, io lo sapevo, non esiste la certezza, ok, esistono le probabilità, uno si può esporre in una direzione, in un'altra, l'importante è avere un piano, avere il proprio stop loss ben definito, la propria operatività ben definita, scenario A, scenario B, scenario A opero in questo modo, scenario B opero nell'altro, ma è sbagliata la retorica, la narrativa del si capiva che questo doveva crollare, l'avevo capito subito, perché non funziona così, non esiste certezza, esiste appunto uno schema che uno può seguire, poi può aver ragione, può avere torto, chi vi dice io ero sicuro, vi sta dicendo mille minchiate, perché non esiste la certezza, esiste solo la probabilità. E per terminare appunto l'analisi della price action, adesso i livelli da tenere sotto controllo sono questi, vi ho mostrato quelli in alto, quindi da recuperare, quelli in basso pure in verità, perché attenzione all'origine dell'ultima leg up, qua sopra 26.300, sarebbe bello insomma chiuderci sopra, anche se non è che faccia molta differenza, e il low settimanale A25.900, questo a riguardo della chiusura settimanale, più chiudiamo sopra il settimanale rispetto a quest'area e meglio è, tra poco vi mostro il perché, ma banalmente perché si fa almeno ancora un higher low, quindi un minimo di struttura la si conserva, e poi c'è l'area di supporto principale che se viene persa si crea un costrutto di top molto grande e quindi ovviamente si propaga la struttura a ribassista di uno step ulteriore. Adesso, ora come ora, la struttura in essere è di equilibrio, perché guardate, torniamo sul settimanale che è molto molto più eloquente, scusate, allora abbiamo il costrutto di bottom, il breakout, al momento eravamo in regimi di minimi e massimi crescenti, fino ad aver fatto, come dicevamo le ultime volte, un equal high, questo era il primo segnale di indebolimento, no, l'equal high con storno. Ora, con questo dump abbiamo la possibilità di fare un equal low e questo porterebbe la struttura attuale a range, no, di fatto, sul settimanale. Range con sul breve, sul daily, come abbiamo, settimanale, range, daily, dominanza ribassista fino a prova contraria che è l'assorbimento dell'origine del dump e il range fintanto che ovviamente range high o range low non vengono violati. Siamo molto vicini al range low, quindi ovviamente i rischi sono maggiori nei confronti di una continuazione ribassista, per ovvi motivi che ve lo dico a fa e i livelli da tenere d'occhio sono quelli che abbiamo visto poco fa proprio per andare a riflettere su eventuali continuazioni di questo tipo. Se andiamo a chiudere invece, perché prima dicevo più chiudiamo lontani da qui e meglio è il settimanale, perché immaginatevi che chiudiamo qua, ad esempio, no, avremmo un body to shadow del 50%, meglio che niente, no, non è che assorbe tutto il dump, ma meglio che niente e abbiamo ancora domani e dopo domani, quindi stiamo all'occhio per vedere come chiudiamo il settimanale e avremmo comunque ancora un higher low, quindi potremmo poi se la domanda fa un bel follow up andare con maggiori probabilità, ripeto, non sto prevedendo il futuro, con maggiori probabilità andare a ricercare di nuovo l'attacco agli high. Più invece chiudiamo vicini all'equal low o peggio ancora in lower low e peggio è, cioè che ve lo dico a fa anche questo, nel senso, questa è un po' la struttura da tenere sotto controllo. Nel caso di perdita dell'area di supporto principale si va verso i 21008, questo è il prossimo supporto degno di nota e basta, questi sono proprio tutti i livelli, tutti costrutti da tenere d'occhio lato price action, niente, direi che non c'è niente da aggiungere. Tra poco vi vengo a leggere, chiudiamo invece l'analisi con liquidazioni e open interest, allora guardate le liquidazioni, ecco, liquidazioni da 855 milioni in long più 200 milioni in short, cioè più di un miliardo di liquidazioni in 24 ore in un giorno, cioè bah che roba, che roba, ma che che digen, troppi digen, cioè non pensavo ce ne fosse, cioè oddio, l'open interest parlava abbastanza chiaro, infatti guardate che fine ha fatto l'open interest, è collassato, adesso lo refrescio per vedere un po', ma è collassato del 25% mi pare ed è ancora in contrazione tra l'altro, quindi c'è veramente si sta chiudendo posizioni come se piovesse, c'è timore nell'aria, guardate, meno 25% open interest, in quest'ultimo, durante quest'ultima fase del movimento, 2 miliardi e 6 di open interest chiusi, cioè non male, e se andiamo sulle 4 ore, così giusto per avere un quadro più ampio, siamo ritornati, guarda caso, praticamente al pre-pump di nuovo, vedete, tutte le posizioni che si erano aperte in questa fase sono state brutalmente sbranate, un grande reset, questo è ciò che c'è stato. La causa, qual è stato Elon Musk Evergrande di qua di là? Ragazzi, la causa è stata una svendita, un dump, qualcuno ha venduto, ha scatenato a catena delle liquidazioni e il prezzo è sceso, cioè non andiamo a rovellarci ma è stato Elon Musk, è stato lui, perché a parte che la notizia di Elon Musk non è neanche del tutto vera, cioè io ho cercato di dare un'occhiata sul fatto che SpaceX avrebbe venduto 350 milioni di dollari in bitcoin ma non è scritto da nessuna parte che li ha venduti, no? E aspettate che ve la vado a trovare anche la cosa, cioè si basava su un filing che ha fatto alla SEC dove ha scritto che possedeva tot milioni di dollari in cripto e poi in bitcoin in particolare e vabbè qua ci sono le ibistici che non so se avete letto che vuole rimuovere la funzione blocca da tweet da x scusate vabbè e dunque dov'è che lo vado a trovare nelle notizie sicuramente SpaceX coin vediamo e infatti anche qua anche Watcher Guru che di solito è per l'estremismo così tipo clickbait attenzione pericolo e ha detto invece con più razionalità che non sono non possono confermare che SpaceX ha venduto il report non è chiaro e dice hanno dicevano che nel 2021 possedeva un totale di 373 milioni di dollari di bitcoin e ha venduto ha venduto le cripto poi non si capisce se si riferisce alla vendita che aveva fatto Tesla perché sapete che anche Tesla aveva venduto parte dei bitcoin insomma non c'è scritto quanto come dove è solo un'elucubrazione quindi insomma e poi tra l'altro è arrivata dopo al dump non è che è arrivata prima la notizia e poi il dump e la vendita non è avvenuta ieri cioè nel caso no è stato già fatto in passato l'altra possibilità era di aver grande che ha dichiarato bancarotta un colosso immobiliare cinese si teme l'effetto domino su altri mercati in primis ovviamente il mercato cinese che è direttamente esposto ma si teme l'effetto domino anche su altri mercati e quindi perché non anche nelle cripto che tanto c'entrano sempre così e vabbè in verità appunto ripeto non è produttivo arrovellarsi sul perché per come è sceso il prezzo i fondamentali di bitcoin sono cambiati rispondetevi da soli sì oppure no e rivalutate eventualmente l'investimento cioè senza rovellarsi oh mio dio cos'è successo chi è stato Elon Musk ha venduto quindi poi ha venduto anche lui e lui e l'altro ecco tutto lì tutto lì e questo è no questo è un po' in brevissimo la situazione e la notizia di Evergrande è stata smentita oh mio dio no non mi sembra che sia stata smentita cioè la la banca rotta è ufficiale penso che sia assolutamente ufficiale no e la narrativa dell'etf è stata costruita per attirare exit liquidity tranquillo che le istituzioni bitcoin non lo toccano nemmeno sotto tortura in queste condizioni infatti sono curioso di vedere come reagiranno Gensler con questo meno 10% in uno in 15 minuti si approverà l'etf spot ma nel senso fa parte del gioco cioè non è una novità che bitcoin è volatile cioè spero almeno che che per qualcuno non sia una novità perché non avrebbe molto senso ricordate che non sono stati bruciati si sono solo spostati di mani esatto è il mercato è il mercato Luca stavo pensando che questo dump visto che volumi e liquidità ad agosto è bassa può essere stata provocata volutamente da chi dovrà comprare bitcoin e ethereum per i futuri etf a prezzi molto più bassi ma guarda che in realtà cioè chi compra per offrire etf a parte che non è direttamente l'emittente ma poi compra un demand cioè non lo fa per profitto suo lui il profitto lo fa sulle commissioni dell'etf quindi questo no questo no è ufficiale da un anno la bancarotta di Evergrande ma l'accordo con i mercati esteri i debiti ah ok sarà deciso tutto a settembre ottobre ho capito ho capito beh seguiremo seguiremo questa cosa è stato aladin è stato io con l'utratore esatto e basta se basta una mezza notizia che uno vende bitcoin per incidere su un dump così che succede se esce la notizia che il governo americano vendi i suoi bitcoin ma infatti non lo so non lo so perdonatemi ma cioè con così poca liquidità basta veramente poco ma non è tanto la notizia ma la svendita la svendita ecco tether non aveva collaterali in evergrande non più che io sappia non più già da un po' aveva venduto aveva liquidato tutte le commercial paper e bene e bene allora allora io mi sono sentito di fare uno short ho dimenticato il take profit quindi ho venduto quando ha risalito comunque in guadagno ma potevo fare di più ho dimenticato il take profit mi fa spaccare però hai fatto bene nel senso se hai seguito la tua il tuo punto di vista la tua analisi o quant'altro hai fatto benissimo esiste la certezza se hai un miliardo ed ampi esatto se sei se sei multimiliardario e controlli il mercato allora sì che hai la certezza di sapere cosa farà purtroppo infatti teoricamente dovrebbe essere vietato beh vediamo vediamo e allora ragazzi aspettate un secondo un secondo un secondo sto applicando con qualche modifica la strategia di trading view per i breakout con le bande di bollinger che ci avevi gentilmente regalato e devo dire che ha brillantemente aperto uno short automatico su questo dump è vero ci ho guardato prima guarda e sono andato a vedere per curiosità le due strategie con cui giochicchio cosa come si sono comportate e tutte e due tra l'altro sono esposte short al momento e già da un po' anche aspettate che ve lo carica così ve lo faccio anche vedere se entro domani allora questa questa in alto a sinistra è quella delle pendenze sulle medie mobili su 12 ore e ha aperto la posizione adesso ce la facciamo abbiate pazienza c'è i suoi tempi chiudo un po' di roba aspettate chiudo questo e chiudo le liquidazioni che le abbiamo già viste e chiudo anche x dai che pure lui è pesantuccio ci ho aperto dell'altra roba dietro si ci ho aperto twitch chiudo anche twitch guardate così non stiamo non stiamo a far del casotto e ragazzi è veramente sta facendo una fatica pazziesca comunque eccoci dai ho visto apparire qualcos'altro non lo so una cosa alla volta vedo che che mette mette le cose oh mio dio ma che succede che non è mai stato così cioè lento sì ma non così tanto vabbè adesso appena arriva ve la mostrò crea suspense in questo modo va a creare della gran suspense intanto leggo un po' di commenti vostri dai quando il video sulla coin up cos'è la coin up qualche notizia su xrp è vero ho visto che è tornato ai livelli pre pump ma quello era un po' così la volatilità non è una novità non siamo più abituati a un meno 10% sì eravamo tutti fermi eravamo tutti fermi e cosa ci vuole prendersi un altro pc per fare le stream eh ma vi voglio condividere il lo schermo è quello è per quello no e adesso questo sì probabilmente lo cambierò perché 5 anni ce li ha però ha sempre lavorato egrigiamente ecco vedete qua aveva aperto la posizione short aveva aperto anche un long prima che poi però ha chiuso e adesso è ancora in posizione mentre bande di bollinger vedete l'ha aperta qua sotto e adesso sta seguendo tac vediamo poi si ricomprimerà la banda di bollinger c'è lo stop alla banda superiore insomma solita solita logica comunque bene sono contento per come si stanno comportando le altre due ignoratele sono dei brutalissimi esperimenti da non imitare nel frattempo tra l'altro vi ricordo che c'è un modo per regalarsi un pack praticamente io adesso tra poco vi farò un video dove vi racconto quanto ho guadagnato con BitCashback nel tempo così giusto per curiosità no perché io ovviamente lo uso con continuità non su questo account che è un account di prova quello che vi mostro sempre ma praticamente cioè vi dico che si può tranquillamente fare un piccolo pack anche da 50-100 euro al mese a gratis in Bitcoin cioè proprio la media è quella lì poi ci sarà magari il mese che acquisti di più il mese che acquisti di meno ma gira e rigira la media è quella adesso purtroppo non c'è più booking quello ahimè è stata una grossa perdita però ci sono altri siti di viaggi e adesso stiamo provando a infilarci dentro anche Expedia però Expedia rompo un po' le balle per i Bitcoin ma ci sono altri siti di viaggi da usare volendo al posto di booking per andare a ad ovviare ma anche perché ci sono dei piccoli trick no tipo beh prenoti quando vai via con gli amici dai prenoto io ragazzi prenoto io oppure se lavorate magari in un'azienda così dovete prenotarvi l'hotel vi dicono prenotalo tu poi lo metti nei rimborsi oppure paghi con la carta aziendale prenoti tu ma passi da BitCashback e lo stesso per gli acquisti no non so facciamo la spesa sì la faccio io per tutti dai la faccio anche per te tu dammi soldi cose del genere no la macchina la noleggio io adesso c'è Europecar vedete ad esempio col cashback insomma tutte quelle spese anche non proprio ovviamente visto che BitCashback non è nominativo si può si può farle no e pupolarsi i Bitcoin che schifo non fanno insomma più acquisti si fanno anche per gli altri poi ci si fa dare i soldi e si pupa pure i Bitcoin e meglio è e meglio è no quindi questo è no io ve lo consiglio sempre cioè con Bitcoin che vale così poco soprattutto così poco relativamente soprattutto è un modo per accumularne anche di più perché vi ricordo che il cashback poi rimane in euro finché voi non richiedete il pagamento quindi se cala 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 poi clicchi il pagamento richiedi il pagamento il 7 del mese dopo di solito si si fa il pagamento e ti arrivano gli Bitcoin che sono molto belli e quindi ve lo scillo tac aspetta che no mi ha mi ha dampato ExoCharts peccato eccoci qua eccoci qua e per concludere volevo anche vedere ecco i long e gli short in realtà per vedere come sono messi ovviamente i long sono stati trucidati brutalmente sia ieri che oggi meno 7500 meno 13000 molto molto bene no brutalmente dampati short sono stati chiusi con buona probabilità no da chi li ha chiusi in profit qualcuno è stato anche liquidato ha visto che probabilmente ieri ci sono stati degli short aperti strada facendo tra l'altro c'è curioso vedere alcuni picchi no tipo qua 25.460 c'è un picco di volumi probabilmente una liquidazione di massa lì c'è stata cioè vedete come ogni tanto anche vicino ai minimi si va vediamo facciamo anche delta profile eh vedete è rossa questo è stato uno show una svendita brutale di qualcuno ahimè che adesso non sarà contento perché tra l'altro il prezzo è anche rimbalzato sopra però sì delle gran gran svendite insomma adesso monitoreremo anche l'open interest nei prossimi giorni per vedere quando e se inizia a ricostruire una cosa che ci tenevo dire è ne parlavamo prima anche nel fuori onda a differenza tra degli ultimi dump dei tipici dump c'è una particolarità guardate la particolarità è che la bitcoin dominance stavolta è in calo cioè di solito siamo abituati che quando bitcoin dumpa così le alt dumpano peggio mentre in questo dump vedete le alt non se la sono passata peggio di bitcoin in particolare guardate Ethereum bitcoin ha avuto un grafico molto curioso perché ieri ha avuto un flash dump fino addirittura no non ha sweepato i minimi ma quasi poi assorbito e oggi follow up di domanda quindi vedete ha tenuto comunque la struttura molto interessante no vedere questo in corrispondenza di un dump del genere una notizia che ha sicuramente tenuto un po' in piedi Ethereum in tutto ciò è stato il probabile via libera secondo Bloomberg e secondo varie fonti agli etf su Ethereum sui futures attenzione non sono etf spot che sono stati proposti da un sacco di fondi alla SEC e al momento non ce ne sono ancora in passato erano stati rifiutati adesso vedremo come andrà a finire ripeto sono etf sui derivati quindi non hanno ovviamente l'effetto di un etf spot ma comunque è una buona notizia soprattutto per insomma il discorso Ethereum security se Ethereum fosse una security non regolamentata non ci approverebbero mai gli etf sopra questo è un po' il discorso che la rende più importante ma non è l'unica altcoin perché se ci fate caso parecchie hanno reagito bene guardate anche SOL per dire non ha dampato di più ma anzi ha rimbalzato un pochino e come lei appunto tante altre LDO è stata un'altra che so che Arimbald vedete ha dampato e poi assorbito subito molte alte insomma hanno assorbito e poi sono ritornate in auge e questo è molto interessante vale la pena sicuramente andare a valutare quelle alte che sono un po' più resilienti in queste situazioni per annotarselo per il futuro adesso non è ancora probabilmente un periodo da stare a esporsi a rischi anche sulle alte chiaramente parlo per me io come sempre ma sicuramente osservare in quelle situazioni particolarmente critiche e difficili le reazioni specifiche di alcune alte sicuramente ce lo si tiene poi a mente ecco Ethereum è quella che a me interessa di più perché poi guida un po' l'intero settore e questo è come possiamo valutare la reazione delle varie alte ai dump generali ma guarda banalmente guardando la struttura se viene conservata e se ci sono focolai di domanda no? quello secondo me diventa super super interessante e Luca comunque molti hanno analizzato che ciclicamente ad agosto settembre dell'anno pre halving bitcoin ha fatto un ritorno medio del meno 21% interessante interessante guarda i tweet di Benjamin Cohen ad esempio me li guarderò me li guarderò molto molto interessante e sì di fatto cioè il pre halving lo sappiamo come funziona no? c'è una grossa lateralità barra ritracciamento e poi solo dopo l'halving di solito si riparte a rialzo quindi vediamo se anche quest'anno sarà sempre così mi raccomando non fatevi prendere dalla smania dall'euforia ingiustificata cioè saldi 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 no bisogna avere una strategia mi raccomando non facciamo mosse azzardate perché altrimenti ce ne si pente ok? mi sembra che ci sia ancora un po' troppa euforia nell'aria e questo non mi piace molto ecco vederlo in generale e soprattutto in questi contesti amici io vi saluterei a questo punto noi ci rivediamo io appunto sono in partenza quindi ci rivediamo prossima settimana non so esattamente che giorno come dove quando ma qualche flash update ce lo pupiamo ve lo prometto arrivano i cippini avete ragione stavolta sono tornati a essere 20 30 non lo so vediamo tac 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 mini burran fate i bravi ragazzi fate i bravi cippineggiatevi sono già long mille ma adesso non basta mi sa non basta la mia partenza temo c'è troppa troppa offerta vediamo poi se davvero funziona tanto meglio ma non ci conterai più di tanto non ci conterai più di tanto ragazzi ripeto ci vediamo prossima settimana ci si sente venerdì prossimo ci vediamo in live da malaga grande grande buone vacanze a chi sta andando anche lui in vacanza buon rientro invece a chi rientrerà a fine settimana spero ve la siate passata bene al di là di tutto ogni tanto girarsi dall'altra parte rispetto ai grafici male non fa diciamocelo amici vi auguro una buona serata e un buon weekend occhi puntati sulla chiusura settimanale mi raccomando e alla prossima a a Grazie a tutti